benvenuti amici e amiche al meeting della moda qui siamo al dubai village una struttura molto bella devo dire la metà e siamo qui con nel backstage potete notare a mie spalle il claudio claudio ciao ragazzi siamo allora video allora ciao ragazzi trocolosi e bananosi come direbbe la nostra sorella zia wilma che ancora non l'avete vista ci presentiamo la collaboratrice un saluto a bambulella a tutti gli amici oggi trucco uomo pure oggi trucco uomo la prima volta in una sfilata trucco uomo e visto c'è sempre una prima volta ok devo dire che qua c'è un po di buio questo è il bel stage potete notare dove abbiamo preparato già gli abiti se potete vedere gli abiti nostro dello stand nostro stand ho preparato io la lalla vedete con i nomi con tutti gli accessori questo nostro stand tra poco pronti per la sfilata che si farà su in piscina ok vedete amici e ben si le cose vanno fatte con passione perché voglio dire se c'è passione c'è tutto le cose si fanno con passione perché se no non si possono fare se bellissima vediamo ci abbiamo un alessandro lustro un po' avvilito va bene io vado fuori a chiamare un po con le ragazze claudio marise liberato la prossima sono io arrivo poi andiamo fuori faccio vedere che bello questa struttura c'è la bellissima il google che è lì è la mia testimonian che sono di arte donna e moda e siamo qui le ragazze stanno riposando un poco che abbiamo fatto le foto solo che non c'è luce non riesco a capire cioè c'è luce non si vede bene ok vedete la bellissima il google bellissima si sta rilassando lo staff fotografi ci sono le mie modelle che stanno facendo altre foto e poi anche modelli modelli maschi come potete vedere le ragazze che vestono arte donna e moda tiziana mi rimane che stanno facendo le foto con altri fotografi tutto bene bella stupenda e vedete lei che non sta un abito mio creato da me dipinto da me e una sorta di sposa bellissima una foto così mamma mia si sta facendo lui le foto oddio aspetta che mi trovo dopo da dietro guarda se non la fai una a lei blitz tranquillo sei bravissimo fabrizio barone quindi dopo ok si si mi dai dal bigliettino certo solo che questa luce non riesci a vedere ragazzi lei un'altra bellissima tesoro ok ragazzi un bacio fate le cose con passione anche con sacrificio ma con passione ciao 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 ud'